Al Dolami abbiamo finito la prima tappa, quindi tre volte la prova speciale, la classifica non mente, sei il secondo di all'assoluta, ma primo della tua categoria, per essere la prima baia. Per essere il debutto sono contento, però non me l'aspettavo così dura, però molto bella, ripeto, pericolosa, c'era un sacco di pietre, velocità assurda in mezzo agli alberi, però veramente bella, quando è finita però eh. Aspettiamo domani quello, vabbè, però intanto già oggi il primo giorno l'abbiamo messo in catiere. Già stasera è veramente bella, mi sento in forma, si regge la moto, incrociamo le dita ragazzi, vediamo se la portiamo a casa. Grande, grazie Aldo, ciao!